Si discute dell'applicabilità o meno dell'articolo 38 del Codice di Procedura Civile, secondo comma, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Più precisamente la problematica è relativa all'ipotesi in cui venga in rilievo un profilo di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. L'ordinanza in commento ritiene che il secondo comma dell'articolo 38 sia applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice, proprio sulla scorta dell'accordo fra le parti, sull'onere posto al loro carico per la riassunzione previsti dall'articolo 38 deve provvedere con ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo con espressa revoca del decreto ingiuntivo opposto con impossibilità di ogni altra pronuncia.